Allora, riprendiamo i medici E così Che via Dunque Abbiamo qua No question Awaiting orders Any orders, sir Attack We're ready, sir Come on Sperando che ci arrivi Sì Ok Già che ci siamo Ce la dovrei fare Però È morto, può bastare, dai Quando poco e quando troppo Eh, ho perso quasi tutta la fanteria, mi è rimasto uno Artillery Any orders, sir Yes, sir Infantry moving Medic reporting Need ammo, fuel, or repair Hostile units Infantry ready Attack Need ammo, fuel, or repair Vehicle is operational Vehicle is operational On the way Oh no Ah no Sono giro Yes, sir Affirmative Ready, sir Yes Cioè Cioè Volendo poter venire da loro Con fanteria Però La conserverei Yes Any orders, sir Vehicle is operational Reporting for duty Infantry ready Infantry on the move Any orders, sir Destroyed Ok, questo è pronto Ready to attack Ready to attack Ready to attack Got it Yes We are ready, sir Moving, sir Yes, sir Uh, Vicky Ready to attack Vehicle is operational E qua Supply truck ready Moving Vehicle is operational Ready to attack Vehicle is operational Yes, sir Ready, sir Come on Any orders, sir Awaiting orders Come on Hurry up Yes Yes Moving Moving, sir Codes joues Moving, sir Supply truck ready Yes, sir Ready to attack Yes Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir To attack Awaiting orders Hurry up Yes, sir Yes, sir Ho sentito il mitogliato, ecco lui. E infatti... Il è stato in attaccio. Siamo pronti, signor. Siamo pronti, signor. Siamo pronti, signor. Siamo pronti. Il veico è operativo. Siamo pronti, signor. Siamo pronti, signor. Siamo pronti, vuoi ammogliare. no, non bene siamo pronti, signor, sui l'arrivo! pronti per attaccare? sì, signor, vieni! alcuni pronti, signor, pronti per attaccare pronti per attaccare välja hm, questa c'è missina Sì, non è vero. o 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 basta così sì mi abbiamo perso uno va bene infatti ancora qualche metro ed è finita penso guarda quello è dal rovescio ritor 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Era morto l'antica guerra. Sì. Vai. Sì. 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 Siamo pronti, signor. Come on! Machine gun oiled and ready. Machine gun moving. Enemies sighted. Reporting for duty. Eh, lì c'è tanto di quella panteria. Che è anche troppo. Any orders, sir? Coordinates, sir? Reporting for duty. Moving, sir. Awaiting orders. Any orders, sir? Vehicle is operational. Yes? Infantry moving. Ok, laggiù c'è un altro carro. Machine gun oiled and ready. E da quello che è successo prima anche un altro anticarro. Barra contraerea. Ready to attack. Non sparare. Machine gun oiled and ready. Non sparare. Awaiting orders. Any orders, sir? Need ammo, fuel or repair. Yes! Reporting for duty. Vediamo, vediamo. Tu hai bisogno di carburante. Got it! Tu sei un medico. Any orders, sir? Moving, sir. Any orders, sir? Eccolo qua. We're ready, sir. We're ready, sir. Any orders, sir? Yes, sir. Yes, sir. Wow, come on, sir. Fire. Aight. Willi. Come on, sir. And then, come on. And then, come on. Yeah. And then, come on. Ok, un altro, tu stai dietro Cosa da, sull'amore edizzi Spontagnozzi, attraverta Sottotit, sottotit Lassit Ok Attraverta Spontagnozzi, attraverta Ne Barbara, combustul, apraverta Ok, attraverta Soccas il città, jobb Volta Oh, ho due stelle. Oh, e adesso? Spero sia libero. Ready to attack. Vehicle is operational. We are ready, sir. Reporting for duty. Ready to attack. We are ready, sir. Yes, sir. Hostile unit spotted. I got it. Infantry ready. Moving, sir. Any orders, sir? What are the coordinates? We are ready, sir. Awaiting orders. I'm badly wounded. We are ready, sir. Any orders, sir? Enemy. Got him. All of them. Moving. Yes, sir. Copy, tower. Thank you, sir. Any orders, sir? Moving. Vehicle is operational. We are ready, sir. Reporting for duty. Target in sight. Oh, I won't go now. No more. Yes, sir. Yes. Yes. Decision under my choice. Destination acknowledged. Any orders, sir? Affirmative. 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 VEHICLE IS OPERATIONAL. ENEMY! YES SIR! MOVING SIR! FIERING THE TARGET! ENTIRE ORDERS SIR! DESTINATION ACKNOWLEDGED. ATTACK! I NEED A MEDIC! YEAH! I'M BADLY WOUNDED! AFERMIT! WE'RE READY, SIR! WE'RE READY, SIR! YES! DIE! COME AND MORTUN! READY, SIR! MEDIC MOVING! DESPROYER! MOVING, SIR! READY TO ATTACK! REPORTING FOR DUTY! WE'RE READY, SIR! READY TO ATTACK! OH YEAH! WE'RE READY, SIR! REPORTING FOR DUTY! READY FOR BATTLE! READY FOR BATTLE! VEHICLE DRIVE IS DAMAGED! READY TO ATTACK! TRYB READY! READY FOR BATTLE! 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 WE'RE READY! Sì, si è pronto. Sì, Bullseye! Sì, si, ok. Un po' sottotono è stata. Quindi, alle spalle, argento, tiratore scelto, alle spalle oro, saccheggiatore, cacciatore di carri, molti, medico di bronzo, e morte dall'alto. 96 unità di fanteria perse, 8 carri armati, 3 anticarro, 14 aerei, e 4 veicoli contro 536 nemici uccisi in ambito di fanteria, 45 per i carri, 21 anticarro, 25 artiglieri, un solo aereo nemico c'era, 80 altri elementi, e 13 veicoli. Ok. 6 novembre 1942, sin da quando le abbiamo fatti indietreggiare ad Alam Alfa, gli uomini della Panzer Armia Africa si sono trincerati ad ovest di El Alamein, in attesa del nostro ritorno. Dopo due anni di battaglia ininterrotte, però i nostri generali volevano risolvere la questione una volta per tutte. Montgomery e Alexander hanno atteso che portassimo il doppio degli uomini e dei veicoli rispetto alle forze dell'asse, prima di sferrare un attacco su due fronti. Prima ha attaccato la nostra attiglieria, colpendo le batterie nemiche a nord, così da aprire la strada alla nostra fanteria, fino ai campi minati, in modo che potessero poi passare i carri armati. Nel frattempo, abbiamo lanciato un diversivo a sud, attirando i Panzer nemici lontani dal nostro reale obiettivo. Ha funzionato alla perfezione, e quando è stato il momento per le truppe a nord di avanzare, non hanno avuto problemi. Le forze dell'asse lanciarono un ultimo contrattacco, ma fortunatamente la RAF intervenne con incursioni aeree. Abbiamo scacciato il nemico come si allontanano le mosche da una bottiglia d'acqua. Tra le forze di terra è stata una volta di più la nostra armata a distinguersi. Il generale O'Connor ha destrato i suoi uomini nel migliore dei modi, prima di essere catturato. Oggi sarebbe fiero. Alla fine anche Rommel si accorse che i suoi uomini erano ormai sconfitti, e ordinò la ritirata. La Panzer Armia Africa sta ora tornando frettolosamente verso Marsa Matrou e Sidi Barrani. Li abbiamo messi in fuga. E ho sentito che il piano è di inseguirli fino al passo di Alfaia, o addirittura fino a Tripoli. Le cose stanno finalmente volgendo in nostro favore. E qui finisce la seconda missione.